Buongiorno a tutti amici di YouTube e benvenuti o bentornati sul canale del vostro amichevole Joker di quartiere. Oggi ho il piacere di riproporre una rubrica che è stata molto apprezzata, onestamente più di quanto mi sarei aspettato, in occasione del suo debutto qualche mese fa, e che quindi ho deciso di far diventare un appuntamento fisso di questo canale. Mi riferisco al manga confronto, il format dove faccio un paragone tra due manga apparentemente o realmente simili, analizzando nel dettaglio le loro affinità e le loro differenze. Piccola parentesi, più vado avanti e più mi rendo conto che quello dei paragoni è un argomento a cui certa gente è fin troppo suscettibile, perciò se rientrate nella suddetta categoria non sono questi il video e la rubrica che fanno per voi. Ma torniamo a noi. I titoli che oggi vi metto a confronto sono due veri e propri cavalli di battaglia del sottoscritto, due opere che adoro, a cui ho dedicato e sto dedicando molti contenuti della mia attività di influencer wannabe, anche se personalmente non mi reputo tale, ovvero Yokohama, Shopping Blog e Aria. Due capolavori del manga Slice of Life yashikei, il secondo da poco ritornato in Italia con l'edizione dell'Axe Aria de Masterpiece, che come alcuni di voi hanno intuito sono davvero simili, ma al tempo stesso distanti sotto certi aspetti, che vi illustrerò al meglio delle mie possibilità in questo video. Perciò non indugiamo ulteriormente, mettetevi comodi, allacciate le cinture e ci vediamo dopo la... sigla! Esattamente come il video precedente, quello del confronto tra Skip & Loafer e Insomniacs After School, il paragone che vi porto oggi non sarà del tutto equo ed imparziale, perché anche in questo caso non ho fruito i due titoli esattamente nello stesso modo. Yokohama Shopping Blog infatti lo conosco grazie al manga che, come sapete, ho letto per intero in scan prima che venisse annunciato in Italia e negli altri mercati occidentali, mentre non ho mai visto gli ovo animati che comunque adattano una porzione molto ridotta dell'opera originale. Tutte le volte mi ripeto che devo recuperarli per una questione di completezza, ma puntualmente me lo dimentico. Aria, all'opposto, l'ho seguito principalmente grazie all'anime trasmesso all'epoca sul canale satellitare Manga di Sky e di cui sto facendo un rewatch in queste settimane, mentre il manga ho iniziato a leggerlo proprio recentemente con l'arrivo nel nostro paese di Aria the Masterpiece e dunque mi è ancora sostanzialmente sconosciuto. Avete capito, insomma, due opere di quello stato attuale ho esperienza grazie a due medium molto diversi, quello animato e quello fumettistico, spesso impropriamente accostati e sovrapposti e di questo ne riparleremo in futuro. Ma, nonostante ciò, ho deciso comunque di realizzare questo video perché ritengo di potervi esporre in maniera sufficientemente chiara e consapevole le analogie e le differenze tra questi due titoli. Altra piccola precisazione prima di procedere, se non avete idea di cosa siano Yokohama Shopping Blog e Aria, sappiate che in questo video non ve lo spiegherò, perciò vi consiglio caldamente di recuperare i due video da me realizzati dove vi racconto nel dettaglio la storia di questi manga e dei relativi franchise che hanno generato. Ve li lascio entrambi in descrizione e ve li metto qui sopra. Perché viene naturale accostare Yokohama Shopping Blog e Aria? Beh, molto semplicemente perché si tratta di due manga appartenenti allo stesso genere, lo slice of life di stampo Healing barra Yashikei e caratterizzati da un contesto molto simile. Entrambe le opere infatti sono ascrivibili al genere fantascientifico, in quanto ambientate in un futuro lontano dove l'umanità ha fatto passi da gigante nell'evoluzione tecnologica. Per esempio, la protagonista di Yokohama Shopping Blog Alpha Hatsuseno è un avanzatissimo android praticamente indistinguibile da una persona, mentre in Aria l'umanità ha colonizzato lo spazio e terraformato Marte, trasformandolo nel pianeta dell'acqua. Non è tuttavia solo questo dettaglio da comunarli, bensì anche e soprattutto il fatto che Yokohama Shopping Blog e Aria si possono definire a tutti gli effetti delle opere retrofuturistiche. Sfido chiunque, guardando qualsiasi vignetto e illustrazione ufficiale dei manga da cui traggono origine, senza sapere assolutamente nulla della storia e del contesto, a indovinare che si tratta di serie ed ambientazione fantascientifica. In Yokohama Shopping Blog, a seguito della misteriosa catastrofe ambientale che sta lentamente ponendo fine al mondo come lo conosciamo, l'umanità sembra aver riscoperto il gusto e la praticità delle cose semplici e degli oggetti del passato, abbandonando del tutto il progresso tecnologico. In Aria, allo stesso modo, assistiamo alle vicende quotidiane di Akari Mizunashi e delle sue amiche e colleghe Undine in una città neo-Venezia costruita a immagini e somiglianza della reale Venezia ormai da tempo sommersa, un luogo che sembra voler rifugire tutte le comodità del pianeta madre per abbracciare all'opposto uno stile di vita più tranquillo, calmo e rilassato. Oltre a questo aspetto, un'altra ovvia analogia tra Yokohama Shopping Blog e Aria risiede nella loro struttura narrativa. Entrambi i titoli sono slice of life puri di stampo episodico del tutto privi di una trama di fondo, dove le vicende iniziano e si esuriscono all'interno di ciascun capitolo e che in piena aderenza ai canoni degli Yashikei hanno come unico scopo quello di suscitare relax, serenità ed emozioni positive nel lettore. Se vi è piaciuto uno, quindi, quasi certamente vi piacerà anche l'altro e viceversa. E sono abbastanza convinto, come molti del resto, che l'autrice di Aria, Kotsuhamano, abbia preso parecchia ispirazione dalla poetica di Hitoshi Hashinano per la creazione del suo capolavoro. Anzi, magari l'ha confermato lei stessa in qualche intervista o circostanza simile, ammetto di non aver fatto ricerca al riguardo. Yokohama Shopping Blog e Aria sono accomunati, infine, anche dalla caratterizzazione delle rispettive protagoniste, Alpha e Akari, due adorabili ragazze dalla personalità aperta, allegra, spensierata, talvolta a campo ingenua e sbadata, che si fanno a portavoce degli intenti healing di entrambe le serie. Bene, direi che quelli che ho appena elencato sono gli aspetti sotto cui Yokohama Shopping Blog e Aria sono indubbiamente simili. Passiamo adesso ad esaminare le loro differenze. La prima, quella più evidente, è legata allo stile artistico, o meglio, anche in questo caso ci sono comunque alcune affinità, come per esempio l'eccellente utilizzo dei colori, che rende questo tipo di illustrazioni una vera gioia per gli occhi, le tavole di grande impatto scenico ed emotivo, soprattutto le splash page, e più in generale l'impostazione minimale, ma al tempo stesso efficace ed evocativa dei disegni. Ma allora quindi dove stanno le differenze starete pensando? Ovviamente nella rappresentazione dei personaggi, l'aspetto che più risente dello stile degli autori nonché del periodo e del contenitore in cui sono state concepite le due serie. Yokohama Shopping Blog è iniziato nel 1994 su Afternoon di Kodansha, una delle più celebri riviste seinen nell'ambito dei manga. E lo stile di Hashirano, oltre a sprizzare nei 90 da tutti i pori, si delinea fin da subito come molto distante dal canone delle produzioni mainstream, distinguendosi per l'indubbio fascino dei personaggi femminili, quasi tutti caratterizzati da una bellezza statuaria. Di contro, Arya, essendo stato serializzato su una rivista shonen, Monthly Comic Blade di Mark Garden, è molto più moe e commerciale sotto questo punto di vista, sebbene anche il tratto della mano adesso possa apparire retro al pari di quello di Hashirano, il che, almeno per me, non è un difetto, anzi. Personaggi della mano che sono inoltre molto vicini ai canoni dello shoujo manga, visto che l'opera dell'autrice che precede Arya, o meglio Acqua, ovvero Ohisama e Gao, appartiene proprio a questo target. Un'altra differenza sottile ma molto importante tra Yokohama Shopping Blog e Arya risiede nell'atmosfera del racconto. Entrambi i titoli, come sapete, sono esponenti di spicco del filone degli ashikei, ovvero per l'ennesima volta tutte quelle opere che si prefiggono di suscitare relax e tranquillità in chi le affruisce. Tuttavia, come chi ha letto Yokohama Shopping Blog per intero o ha visto il mio video al riguardo sa bene, il manga di Hashirano è caratterizzato anche da una vena più malinconica che si accentua con il passare dei volumi, legata allo scorrere del tempo e alla consapevolezza del cambiamento. Sotto questo aspetto, Yokohama Shopping Blog è probabilmente uno degli esponenti più rappresentativi nel manga moderno del cosiddetto Mono Nohaware o Aware, letteralmente sensibilità delle cose. Un concetto estetico presente nella letteratura giapponese sin dall'epoca Ayan, che indica una forte partecipazione emotiva nei confronti della natura e della vita umana, e la conseguente sensazione nostalgica legata al suo incessante ed inevitabile mutamento. Aria, invece, per quel che ricordo, è un'opera molto più ottimista e positiva. Healing allo stato puro, insomma. E sebbene siano presenti qua e là dei momenti un po' più... tristi, tra molte virgolette, questi non raggiungono mai l'intensità che hanno i Yokohama Shopping Blog, soprattutto nelle battute finali. Anche qui, giusto per chiarire le cose, l'assenza di questa dualità in Aria non è da intendersi assolutamente come un difetto, perlomeno io non la considero tale, in quanto si tratta di una precisa scelta autoriale da parte di Kotsuhamano, che ha sempre voluto mettere in primo piano le emozioni positive. Un'altra differenza tra le due serie, stavolta non legata al contenuto e alla qualità delle suddette, è il fatto che Aria è stato adattato per intero anche in forma animata. Di nuovo, trovate tutti i dettagli nel video che vi ho linkato prima, è addirittura espanso con i successivi prodotti anime original. Laddove Yokohama Shopping Blog non è stato altrettanto fortunato e solo una parte molto ristretta del manga è stata trasposta per il piccolo schermo in due serie OVA. Ma, udite udite, è proprio qui che possiamo trovare un'altra sorprendente affinità tra i due titoli. La colonna sonora. Le musiche del secondo OVA di Yokohama Shopping Blog, intitolato Quiet Country Café e di tutte le iterazioni animate di Aria, sono infatti realizzate dal gruppo Choro Club, un trio acustico di musicisti giapponesi le cui melodie gentili e serene sono semplicemente perfette per l'atmosfera rilassante di entrambe le opere. Bene, direi che queste sono le analogie e le differenze più importanti o perlomeno quelle più generali tra Yokohama Shopping Blog e Aria. Perciò il video si conclude qui e adesso la parola… Ah no, aspetta. Mi sa che mi sto dimenticando qualcosa. Giusto, c'è un'ultima importantissima differenza. Aria The Masterpiece sarà completato nel nostro paese in tempi più o meno regolari. Mentre Yokohama Shopping Blog… beh… Ok, boiate a parte, adesso ho finito davvero tutto quello che ho da dirvi, perciò la parola aspetta a voi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi state seguendo Aria The Masterpiece Yokohama Shopping Blog, se magari avete visto anche l'anime del primo e che cosa ne pensate di questo mio confronto. Il video si conclude qui, come sempre e come al solito se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdervi tutti gli aggiornamenti futuri, soprattutto quelli delle mie live sempre qui su Youtube, e non dimenticate di seguirvi anche sugli altri social network ai link che trovate qui sotto in descrizione. Dalla vostra amichevole Joker di quartiere è tutto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!